Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la quarta maglia del Milan, quella del portiere, in edizione Player. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Questa maglia è stupenda. Il Milan non è la mia squadra del cuore, ma devo dire che questa è meravigliosa. Nella mia classifica prende 5 stelle. Bellissimo questo color champagne, color oro, e bellissime le rifiniture. Il costo lo vedete qui sopra? Che aggiungere un costo molto basso per una maglia che ha sicuramente un'ottima vestibilità? Fate attenzione alla taglia, questa è una L e a me, voglio dire, è proprio di misura. In descrizione, qui sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora, prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, lasciateci un grande like e iscrivetevi al canale. E' l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. . Grazie per la visione!